Storia di Iqbal, capitolo 4 Quella notte stessa, dopo che il padrone ebbe spento le luci e fumo sicuri che si fosse addormentato, mettemmo Ali, il più giovane di tutti noi, a guardia della porta e sgattaiolammo attraverso il laboratorio per conoscere il ragazzo nuovo. Con me vennero Karim, che non rinunciava mai al suo ruolo di sorvegliante, e che avrebbe potuto impedircelo, ma non resisteva alla curiosità. Salman, un bambino di dieci anni circa, ma che sembrava più grande della sua età, con la pelle del viso e delle mani butterata dal sole e dal fango, con cui aveva impastato mattoni per più di tre anni in una fornace da qualche parte verso Caraci e che a tutti faceva un po' di paura perché era duro e rozzo. E venne la piccola Maria, una bambina più giovane di me, minuta come un uccellino e con i capelli tagliati corti corti sotto al fazzolettone di cotone con cui si nascondeva sempre la testa. Nessuno le aveva mai sentito pronunciare una parola dal giorno in cui era arrivata, all'inizio dell'inverno, e non sapevamo se fosse muta o che altro. Anche il nome, Maria, gliel'avevamo dato noi e l'aveva imparato subito. Gli altri preferirono continuare a dormire perché erano troppo stanchi o perché non avevano voglia di sentir raccontare, ancora una volta dal ragazzo appena arrivato, una storia simile a quella di tutti noi. Eravamo tutti poveri e i nostri genitori ci avevano venduto nella speranza di poter saldare il debito che avevano contratto con il padrone della terra o con qualche ricco mercante di città. Quella era la somma che Usai insegnava con il gesso sulla lavagna di ognuno di noi. Che cosa c'era di nuovo? Iqbal era sveglio. Sentivamo la sua catena tintinnare nel buio. La prima notte, quando arrivavi in un posto nuovo, non riuscivi mai a dormire, chissà perché. Ognuno di noi aveva avuto due o tre padroni, qualcuno anche di più, e lo sapevamo bene. Così ci stringemmo attorno a lui. Non c'era l'una e a malapena potevamo distinguere le nostre forme nel buio. Stai attento a lì, ci raccomandammo. Il padrone si arrabbiava molto se ci sorprendeva a svegli di notte. Diceva che il giorno dopo eravamo stupidi e lenti e non lavoravamo a sufficienza. Lui ci rispose con una serie di brevi fischi che volevano dire tutto bene. «Mio padre usciva al mattino presto», cominciò a raccontarci Iqbal, quando spuntava il primo raggio di sole e subito attaccava il bufalo all'aratro leggero. A quell'ora, anche d'estate, l'aria era ancora fresca e respirabile e tutto attorno potevamo vedere la distesa dei campi coltivati e le altre famiglie di servi contadini che compivano le nostre stesse operazioni. Io lo accompagnavo portando in una bisaccia la bottiglia dell'acqua e le verdure che mia madre aveva preparato per noi. All'inizio mio padre lavorava di buona lena e le sue braccia magre sembravano non avvertire il peso dell'aratro. Ma già dopo un paio d'ore doveva rallentare e la terra sembrava diventare di sasso e io potevo vedere i rivoli di sudore che cominciavano a scorrergli sul petto e sul viso mentre la polvere rossa gli copriva i capelli e l'aratro non affondava più come prima e anche il bufalo si impuntava nel calore e muggiva. Poi, da mezzogiorno alle tre, il sole diventava implacabile e il caldo troppo forte per lavorare. Il contorno stesso del mondo sembrava sparire nella foschia e nell'arsura e allora ci mettevamo al riparo all'ombra di un albero. Mangiavamo i nostri ceci e bevevamo un sorso d'acqua tiepida mentre il bufalo sferzava nervoso la coda per liberarsi dagli insetti. Questa è una terra benedetta, mi diceva mio padre. È una terra fertile e buona, ben irrigata. Guarda come tutto cresce. Qua basta gettare un seme nel terreno e con la benevolenza di Dio una famiglia potrebbe vivere per sempre nell'abbondanza. Ricordalo, Iqbal. Sì, padre, rispondevo. Ma non c'era abbondanza a casa nostra. Il cibo non bastava mai e mio fratello maggiore tossiva e stava male. Una volta avevo chiesto a mio padre perché era così. Perché tutto il frumento e l'avena e gli ortaggi che coltivavamo venivano caricati sui carri il giorno stesso del raccolto e nella nostra capanna rimanevano solo un sacco di grano spezzato e uno di ceci secchi accanto al focolare. perché tutto appartiene al padrone aveva risposto mio padre ed è giusto? Lui è il padrone, disse papà e noi chi siamo? Anche mio padre diceva così intervenne Salman ma poi diceva anche che il padrone era varo e cattivo e certe sere nel chiuso della nostra capanna gli lanciava maledizioni terribili. Mia madre era brividiva e implorava taci per carità se il padrone ti sentisse era convinta che il padrone avesse mille occhi e mille orecchie. Donne concluse spezzante non capiscono niente. Avrei voluto intervenire e dirgli il fatto suo era convinto che fossimo tutte stupide e inutili ma io lavoravo quanto lui e certi giorni anche di più. Stetti zitta perché Salman aveva un carattere difficile e non amava essere contraddetto. Era un ribelle. Una volta era anche stato giù nella tomba per due giorni e quando era uscito cotto dal calore e punto dagli scorpioni aveva sputato in terra e aveva detto questo non è niente. Di tutte le cose lui diceva che non erano niente in confronto alla fornace ma si era sempre rifiutato di raccontarci com'era fabbricare mattoni. Io neppure riuscivo a immaginarmelo e pregavo che il padrone non mi vendesse al proprietario di una fornace. cosa avrei fatto allora? Non bisogna parlare male dei padroni sentenziò Karim. Noi cosa faremmo senza Usain Khan? È lui che ci nutre e ci protegge. È lui che ci permette di lavorare e di pagare il debito delle nostre famiglie. Sì lo sbeffeggiò Salman ed è lui che uno di questi giorni ti caccerà perché non servi più a nulla e finirai a fare il vagabondo in mezzo alla strada. Non è vero protestò Karim il padrone sa che io gli sono fedele e ha bisogno di me. Già per fare la spia. Pensai che si sarebbero accapigliati nel buio. Salman aveva ragione Karim era sempre pronto a riferire a Usain Khan tutto quanto accadeva o veniva detto nel laboratorio. Ma certe volte sembrava che stesse con noi io non lo capivo. Mio padre è un uomo buono disse Iqbal non ha mai maledetto nessuno ha sempre accettato il suo destino. anche quando mio fratello maggiore si aggravò e passava le notti a tossire e a lamentarsi mio padre non disse nulla mandò a chiamare il dottore al villaggio e il dottore venne con la sua borsa e gli occhiali si accaccolò accanto al pagliericcio e con uno strumento ascoltò dentro a mio fratello prima dentro al suo petto poi dentro la schiena e scuoteva la testa. È vero disse Karim l'ho visto fare anch'io poi parlottò con mio padre prese il cappello e la canna di bambù e se ne andò mia madre piangeva aveva già perso altri figli il mattino dopo mentre attaccavamo il bufalo all'aratro mio padre mi disse che il dottore sarebbe tornato e avrebbe portato una medicina che forse avrebbe salvato la vita mio fratello infatti il dottore tornò e con lui c'era un altro uomo vestito bene un mercante o un proprietario di terre e anche lui parlò con mio padre e a un certo punto estrasse dalla fascia che portava in vita una grossa borsa e dalla borsa tirò fuori delle banconote e le fece vedere a mio padre e mio padre scosse la testa e disse no e cosa accadde a tuo fratello gli chiesi non guarì delirò per un giorno e una notte mio padre non aveva più nessuno che lo potesse aiutare a lavorare i campi io ero troppo piccolo e debole allora parlò a lungo con mia madre poi andò al villaggio cavalcando il bufalo tornò che era quasi sera andò nel campo con la zappa senza neppure cambiarsi lavorò fino a quando non scese il buio rientrò che respirava fatica non ce no mi chiamò accanto al focolare mi disse che un uomo gli avrebbe prestato una grossa somma 26 dollari disse e io provai a fare il conto di quante rupie fossero e non ci riuscì e che con quella somma loro sarebbero sopravvissuti fino al prossimo raccolto e mio fratello avrebbe avuto altre medicine e sarebbe guarito a dio piacendo io avrei dovuto lavorare mi disse per aiutare la famiglia a estinguere il debito e per molti mesi non ci saremmo rivisti ma avrei imparato a testere i tappeti e questo può sempre servire nella vita chi può dirlo anche mio padre contrasse un debito sussurrai nel buio dopo che l'argine si ruppe e perse tutto il raccolto anche il mio disse Karim ma non so il motivo mio padre continuò Iqbal mi disse anche che in alternativa poteva mandare una delle mie sorelle ma io dissi no manda me lui mi abbracciò e mi chiese hai paura no mentì il fabbricante di tappeti venne il mattino dopo arrivò in automobile fu molto gentile anche con mia madre ti porterò in città mi disse ti piacerà vedrai l'ultima cosa che vidi mentre mi portava via girandomi a guardare attraverso il vetro posteriore dell'auto fu mio padre che sferzava sangue il bufalo trascinandolo per i campi e avreste dovuto sentire come Muggiva povera bestia ci fu un attimo di silenzio oh beh disse infine Karim tu non ci metterai molto a saldare il debito di tuo padre io me ne intendo ne ho visti tanti nessuno lavora bene e veloce come te cancellerai quei segni dalla lavagna come il sole cancella la neve sulle montagne nel buio intravidi per un attimo il bianco dei denti di Iqbal come se avesse sorriso il debito non si cancella mai disse piano puoi essere bravo e abile e veloce quanto vuoi tu sei matto gridò Salman dici così per cattiveria dici così perché ci vuoi spaventare ogni giorno il padrone cancella un segno e finiti i segni torneremo a casa anche con i mattoni funzionava così che ti credi dovevamo fabbricare mille mattoni ogni giorno e ogni mille mattoni prendevamo cento rupie tutta la mia famiglia ci lavorava anche le mie sorelle e avete cancellato il vostro debito chiese Iqbal no bofonchiò Salman ma che vuol dire c'erano i giorni di pioggia c'era la terra sabbiosa che non riusciva a impastare c'erano i mattoni che si rompevano quando uscivano dal forno e la sfortuna avete mai visto qualcuno estinguere il debito chiese ancora il ragazzo nuovo nel buio sentivo il corpo di Maria stretto al mio chissà se lei sentiva e capiva cosa stavamo dicendo io avevo capito e mi dava fastidio che quello lì l'ultimo arrivato venisse a dirci queste cose avrei voluto dirgli sei falso e bugiardo ma anche se non lo conoscevo non mi sembrava il tipo no dicemmo invece tutti uno dopo l'altro no non abbiamo mai visto nessuno pagare il debito eppure cercò di ribattere Salman in quel momento Ali che aveva ascoltato tutto stando di guardia alla porta emise due fischi lunghi e decisi l'allarme sciomolammo tutti verso i nostri giacigli cercai di prendere sonno e non ci riuscì mi girai da una parte e dall'altra dopo un po' riattraversai strisciando il pavimento di terra polverosa quello nuovo Iqbal era ancora sveglio anche lui cercai il suo orecchio per non farmi sentire dagli altri cosa volevi dire gli chiesi stizzita che non riusciremo mai ad andarcene da qua che non torneremo più a casa tu chi sei mi chiese lui mi chiamo Fatima lui rimase in silenzio per qualche secondo sai mantenere un segreto Fatima mi sussurrò poi certo che sì per chi mi hai presa allora te lo posso dire abbassò ancora di più la voce ce ne andremo da qua sta sicura hai detto che è impossibile pagare il debito gli ricordai è vero ma noi non ce ne andremo in quel modo e come allora mi sa che aveva ragione il padrone a chiamarti signor so tutto scapperemo ecco come tu sei matto non sono matto scapperemo e tu verrai con me non lo conoscevo poteva essere solo un fanfarone o magari era matto davvero eppure gli credetti tornai al mio giaciglio e per tutto il resto della notte mi rigirai inquieta avevo quella frase in testa e non riuscivo a cacciarla era più insistente di una mosca dei cavalli scapperemo grazie a tutti